voglio solo che torniamo a essere felici anch'io e ti prometto che non appena quest'affare si sarà concluso passeremo più tempo insieme te lo prometto sei di famiglia ora io non deludo mai la mia famiglia è una cosa che faccio per il grande per il ciclo nel segno del giallo in prima visione assoluta la doppia vita di mio marito sabato 21.05 rai 2